Olivicoltori abbandonati dallo Stato e la denuncia di Assoprolli Bari che chiede risposte rapide alle istituzioni per l'intera filiera. Sentiamo. Ritardi e inadempienze continue e inspiegabili è la denuncia di Pasquale Mastrandrea, presidente dell'Assoprolli Bari, organizzazione di produttori che racchiude numerose cooperative e frantoi pugliesi. Nel mirino, il ritardo di quasi due anni per il decreto che dovrà concedere gli aiuti ai frantoi colpiti dalle gelate del 2018, oltre al bando AGEA non ancora pubblicato, per l'acquisto di olio extravergine di oliva italiano da destinare agli indigenti della campagna 2019-2020, invenduto a causa del lockdown di marzo. Ad essere colpito è sempre e solo il settore olivicolo, spiega Mastrandrea. Probabilmente l'obiettivo, non dichiarato apertamente dal sistema, è quello di mettere in ginocchio i produttori di olio extravergine di oliva. Secondo Assoprolli è necessario un cambio di passo deciso e importante. Non possiamo più permetterci di attendere i tempi lunghissimi della burocrazia e dei capricci politici. Vogliamo solo fatti concreti, conclude Mastrandrea.